I got no breath in love with you Cause you're beautiful tonight Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video L'ultimo episodio di Random Sniping Ragazzi, siamo più carichi che mai E oggi giocheremo sulla modalità ovviamente un colpo Per giocarci l'ultimo episodio Vi ricordo che c'è rimasto da usare il cecchino numero 2 Quello con il bilino zoom variabile per 4 Che diciamo che è quello con cui mi trovo anche meglio Quindi direi ragazzi di cercare la partita Ci vediamo appena inizia, bella Ma perché nella lobby c'è il tono crescenza? Torky Tom Torky 90 Torky Tom Poi c'è Tenable Uploader Poi c'è Turbo Pedofilo C'è One Direction One Zia Boy Troll Ok ragazzi eccoci Allora scegliamo subito la classe numero 2 Ricordo che il... Non c'è le decisioni da battere C'è da superare 7 E in questa mappa è possibile Perché questa qua è una mappa per cecchini Per cecchini E non ci riusciremo Scusate ragazzi per i tre giorni in attività Cioè nel senso non è che in attività Scusate se in questi tre giorni Non abbiamo pubblicato video Ma in questo momento Cioè più avanti vi spiegherò Perché io non sono uscito a pubblicare video C'è un motivo però voglio spiegarvelo più avanti Perché è una cosa che ancora va confermata Che sicuramente potrebbe più che farvi piacere Ecco Intanto abbiamo già fatto un uccisione prima Siamo a uno comunque Allora Uno Stramirata Ma non mi interessa sinceramente Dov'è? Due Ok ragazzi Sì Due Schifoso Oh Oh Ok me l'hanno già rubato Perfetto Quando arrivano tanti raga Ok mi sparano troppe parti Tono crescenza di nuovo Camper T'ho beccato Madonna Santissima Oh Oh Ce l'hanno qua sotto Dimmi che l'hanno chi là Ma No raga Non sta succedendo Oh Madonna Potevo fare una tripla collatera Vi rendete conto Potevo fare una tripla Collatera Ma non ce l'ho fatta Perché Si so C'è Ragazzi C'è uno là Ok Stramirata No Ma Dio Potevo fare di quelle cose Potevo fare Non puoi Non puoi coltellarmi Poi arriva l'altro Allora Tiriamo una bomba là E mi torna indietro anche la mia bomba Quindi Bene Non devi camperare Capito Lo zio ti insegna Guarda come se la sta lì a mirare Ma che cavolo No Ma quanto faccio schifo Madonna Oh Non ho visto uno là dentro Oh Perché non ho visto uno qua Ok Ci vedo male Si ma questo qua È Pamage Uno Due Tre Quattro Cinque Cinque raga Ok Ok Adesso Non devo Fammi prendere Uavi Sei Che calma E qua E che qua Si muore Si muore male anche Perché la gente camperà E la gente si chiude là sotto E io come faccio a ucciderli Non lo so Me lo chiedo Da tempo Non l'ho preso Non l'ho preso neanche Si Ah ma What the fuck era Era sotto di me Oh Raga non muore Quattro Quattro Cinque Madonna questa Questa è la partita migliore Di sempre Oh Dede che sono cinque Sei Oh Mio dio raga Uno Uno Non ci capisco niente Non ci capivo niente Però 24 Quattordici Oh mio dio Che partita C'è lì di sei ma Sicuro Che è la partita più buona Che Io Abbia Mai giocato In questa serie E E E niente Ci vediamo la seconda partita Bella ragazzi Ok ragazzi Eccoci qua Con la seconda partita Con la seconda partita E vediamo Cosa riusciamo a fare Allora Questa mappa Faccio subito una premessa Che non l'amo molto Però Ci può stare Ci può stare E ci proviamo Lo stesso Anche secondo me Non riuscirò A battere sette Perché qua È davvero Davvero difficile Innanzitutto Direi subito Di camperare qua Che ne arriva Che tanto io non li prendo Quindi Vedete Tanto il suo scarso Non li prendo Madonna santa Non li prendo davvero Che schifosi Se mi arrivano Da dietro Ancora Ecco così Pendebo Al pugno In faccia E Così alla bua Non avevi Stato uno Ma non ho capito Se mi hanno Due Oh L'avevo preso Raga L'avete visto anche voi L'avevo preso L'avevo preso L'avevo preso Ma che cavolo Ma che Ma sta scherzando Spero Quando la gente È stupida Non può Farci niente Adesso Guardate Quanti ce ne arrivano Oh Oh no Tu il vero amico Non puoi neanche muoverti Che qua Ti ammazzano Ti ammazzano Uno Ok Sì Sono un camper Ecco bravo L'avete capito Quando c'è gente così contro Devo camperare Sennò Lo zio killer Non è contento E non li prendo Oh Madonna Lo so Non devo stare le miramele così Però Quando vedo la gente saltare così Come dei coniglietti È la prima cosa che mi viene da fare Questa È la prima cosa che mi viene da fare Raga Ve lo giuro Proprio È una droga È una droga questa Non Devo mirarmene Oh cavolo Oh cavolo Ce n'è uno Oh Ok Scendete voi Io Di qua non ci scendo Buona Quanto sono raga Eh vabbè Ok Sono morto Ma raga quanto Faccio schifo Quanto faccio schifo A me non ho preso uno lo stesso C'è Ah niente Jump shot Dov'è Dov'è Questo schifo Dov'è lo schifoso Ma vai Allora Tu non devi camperare Non devi camperare Tu non devi camperare Tu non devi camperare Dov'è Oh no ma donna città 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 no mi sono suicidato mi sono suicidato ma non ci credo raga ero 7 ero 7 ero 7 raga ero 7 mi mancava madonna ero 7 no no devo andare avanti dirlo raga ero 7 che tristezza raga che tristezza 15-10 ho giocato bene la partita era iniziata male comunque devo dire poi vabbè c'è stato il recupero impressionante l'ho fatto anche quella feed una specie di feed un po' mirata vabbè ragazzi purtroppo questa serie si conclude qua ma non vuol dire che voi nei commenti comunque potete lasciarmi delle idee o delle sfide che potrei fare ancora su advanced dwarf vi ricordo di lasciare un bel like nei commenti comunque fatemi sapere cosa avete pensato di questa serie e se vi è piaciuta iscrivetevi al canale se non l'avete fatto ci vediamo al prossimo video bella ragazzi ciao 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 ciao